bella ragazzi bentornati su enjoycd sono andrea e sono qui con un video perché è uscita la web app è uscita veramente da poco infatti era stato molto difficile accedervi perché ci sono un sacco di gente che c'entrava e quindi i server non sono molto buoni per questo ci ho messo tanto tempo e quando ci sono riuscito volevo portarvi questo video in cui niente vi parlo un po' di questa web app ve la faccio un po' vedere perché la grafica è veramente molto bella mi piace poi niente ho aperto i tre pacchetti ma ho evitato di mostrarvi perché non ho trovato praticamente nessuno l'unico buono che mi piace è colker quello della premier league che forse però dovrò usarla nella mia premier league iniziale io direi di andare a cercare un po' di i prezzi dei giocatori che diciamo sono più buggati che volevo prendermi subito per esempio iniziamo con il bug manuele meniche 5.600 4.000 2005 10.000 si si mi aspettavo il prezzo alla fine mi aspettavo qualcosa in più né qualcosa in meno ovviamente questi sono i primi giorni di gioco quindi costerà un pochino rispetto a quello che costerà dopo andiamo invece con i barbo i barbo da un credato a 75 vediamo un po' quanto costa 3.000 14.000 si qualcosa di meno di M&I che sta sui 5.000 si abbasserà molto secondo me arriverà sui 1.500 2.000 ecco invece andiamo con il 5 star skiller di quest'anno cioè Depay che secondo me costerà un bel po' perché si si costa più o meno 15.000 credit ci sono tre carte sul mercato quindi invece volevo cercare quadrato quadrato altro giocatore con 5 stelle skill vediamo un po' 3.000 bisognerebbe vedere quest'asta a quanto a quanto si ferma però non ci sono dei comprori ci sono poche carte sul mercato perché comunque 83 come rating quindi non è di certo basso volevo vedere passiamo ai pezzi grossi cristiano ronaldo ronaldo ovviamente 92 quindi ci saranno poche carte sul mercato anzi nessuna e andiamo con ibra 90 rating infatti non trova nessuna carta come vedete i pacchetti eccoli qui sono no sì c'è un pacchetto speciale da 15.000 e poi c'è vabbè c'è il pacchetto i pacchetti oro i pacchetti argento c'è anche quello da 30.000 un pacchetto solo però proprio appena accederete vi daranno 500 crediti e c'è scritto che prendete ve li daranno ogni volta che fare il vostro accesso alla web app quindi vi consiglio di accedere ogni giorno così iniziate a farvi i primi crediti per così farvi una squadra dell'inizio dall'inizio come potete vedere questi sono i giocatori che ho trovato nei primi tre pacchetti iniziali che mi hanno dato e insomma mi aspettavo qualcosa in più perché comunque tutti oro non rari praticamente quelli che mi interessano di più sono colker ovviamente perché è un difensore molto buono della premier league ottimo direi anche sergi roberto non sembra male in una liga iniziale lui sembra un giocatore molto completo come esterno nella bundesliga qua troviamo un argentone non lo so perché ha 83 di fisico che non è per niente male però non so in che campionato gioca e poi ho trovato l'hazzard sbagliato perché dovevo volevo trovare l'hazzard quello del celsi invece ho trovato il cugino scemo del vero hazard ecco quindi male male niente ragazzi questo era un video veramente brevissimo per farvi vedere giusto la nuova web app dato che comunque erano molti giorni che la si aspettava dopo rinvii e cose varie quindi niente se vi è piaciuto il video lasciate un commento arriveranno prossimi video sempre dedicati a fifa 15 ci vediamo nei prossimi video bella 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 Grazie a tutti.